Raccolta differenziata, San Giustino decide di investire ancora di più. Assessore, è l'unico modo forse per cercare un po' di risparmiare? Sì, è l'unico modo che c'è rimasto non solo per il risparmio ma anche per la salvaguardia dell'ambiente, oltre che alla riduzione del rifiuto in senso lato, quindi quando si va a fare gli acquisti e a fare la spesa. Questa è la prima riduzione del rifiuto. Poi il Comune di San Giustino sta investendo ancora una volta sulla raccolta differenziata, già partita con la raccolta dell'umido nelle frazioni di Selce e di Lama e partirà ora anche nel capoluogo con la raccolta dell'umido. Così si viene a completare quello che è la raccolta differenziata che ricordiamo essere uno dei pochi comuni che la fa ancora in house e quindi la gestisce proprio personalmente. Siamo uno dei pochi comuni che ha il monitoraggio complesso dell'intero territorio e di questi ne andiamo molto fieri. È certo che dobbiamo chiedere un ulteriore sforzo ai nostri cittadini perché la raccolta differenziata si fa solo tramite loro. Il cittadino deve assolutamente sposare quella che è l'iniziativa comunale altrimenti il progetto non riesce. E quindi faremo una serie di campagne pubblicitarie proprio rivolte alla sensibilizzazione del cittadino per far sì che la raccolta differenziata aumenti a scapito della raccolta indifferenziata. E anche per questo motivo abbiamo fatto una valutazione su tutto il territorio ed andremo senz'altro a diminuire quelli che sono i raccoglitori per l'indifferenziato. Appena amplieremo l'umido a San Giustino diminuiremo le possibilità di raccogliere l'indifferenziato per cercare di ridurre i costi.